Cosa accadrebbe se il Sole sparisse all'improvviso? Prima di tutto, dato che la luce non si trasmette istantaneamente, avremo luce per altri 8 minuti e 20 secondi, che è esattamente il tempo che la luce impiega a percorrere lo spazio tra il Sole e la Terra. Quello che molti forse non sanno è che anche la gravità si muove alla velocità della luce. Questo vuol dire che la Terra continuerebbe a orbitare attorno al nulla per altri 8 minuti e 20 secondi, prima di proseguire al buio in linea retta nello spazio.